Secondo me perché c'è lo sconto diretto anche tra Villanovese e Nave Cortina e quindi ci servono questi tre punti per portarci avanti e sperare che in un risultato utile tra le altre due squadre. E dalla formazione nostra o di oggi cosa ti aspetti? Mi aspetto che anche se ci sono delle assenze pesanti dobbiamo riuscire a vincere lo stesso perché dobbiamo essere una squadra. Le squadre si vedono anche non solo dai singoli ma anche da tutta la squadra.